Ciao a tutti, oggi facciamo l'unboxing del Reporter Studio Kit. Vareggiazza e ciuffate un altro. Ok, nella valigetta troviamo, allora iniziamo ad aprire, adesso vediamo. Due lampade. Una e una di due. Qua abbiamo, allora, il capo di alimentazione. Allora. Una quarta lampada. Questo è un cavalletto. Qua dovrebbe essere l'attaraio per il cavalletto. Ok. Esatto, è il telaio per il cavalletto questo. Io questo qua lo userò molto poco. Perché uso il mio manfrotto. Ok, nella tasca non c'è più niente. Passiamo. Alcosa vero proprio. Assetto vero proprio. Abbiamo due sfondi. Uno bianco. L'altro blu. Qua è per mettere le nostre lampade. E questo, è per montarlo. Ok. Adesso fermo il video. E... non lo monto. Poi vi faccio vedere. Ok. Ed eccolo montato come si presenta. Allora. Io ho messo lo sfondo bianco però. Si può mettere anche, dirandolo in contrario, lo sfondo blu. Il cavalletto è per una piccola compatta. E una volta acceso. Fa questa luce qua. Per fotografare piccoli oggetti. In casa. Va più che bene. Va bene. Ragazzi. Alla prossimo video. E al prossimo unboxing. Ciao ciao. Ciao ciao.